Perché è importante e cosa avete provato a spiegare ai cittadini? Allora, secondo me, io credo molto a questo progetto di fusione su cui stiamo lavorando insieme da molto tempo e dall'inizio di quest'anno praticamente, secondo me è importante non solo per i grossi contributi che verranno trasferiti dallo Stato nei prossimi dieci anni che sono quasi 9 milioni di euro ma sono importanti per dare un'opportunità di rilancio a un territorio che tutto sommato ne ha bisogno Rilancio in che senso? Nel senso che con questo contributo di 9 milioni di euro noi abbiamo già legato dei progetti concreti attuali posso citare tre progetti che riguardano fasce diverse della popolazione per esempio pensiamo a una fascia che sono i genitori, i giovani genitori hanno un problema, lavorano entrambi, noi con quei soldi abbiamo pensato di costruire un asilo nido che sicuramente richiamerebbe in questo territorio delle giovani copie che un asilo nido sicuramente ce l'hanno bisogno poi un'altra cosa potremmo istituire, e questo va a vantaggio delle fasce invece più anziane della popolazione abbiamo pensato di istituire un servizio di trasporto pubblico locale reso possibile dal fatto che Pelgioioso e Filighiera sarebbe un unico comune e quindi potrebbe attivarsi questo servizio che comporta comunque degli oneri a carico dell'ente e che verrebbero garantiti e non resi problematici da questi fondi straordinari che lo Stato garantisce per le fusioni ultima cosa, è una cosa che riguarda più o meno tutta la provincia gli importanti interventi sulla viabilità, sulle strade che ne hanno sicuramente bisogno che potrebbero sicuramente essere più sostanziosi con la presenza di questi contributi straordinari io penso che ogni progetto abbia in sé un frammento di avvenire e io penso che se dovessi pensare a Filighiera tra 5, 10, 20 anni la fusione dia una grande opportunità e una grande speranza per questo ente che diversamente e forse inevitabilmente fa sempre più fatica ad andare avanti da un punto di vista gestionale, da un punto di vista del personale che è sempre più oberato dai diversi attempimenti e in un inesorabile taglio crescente dei trasferimenti quindi ecco, penso che questa fusione sia davvero una opportunità per garantire dei servizi efficienti e delle infrastrutture migliori per queste due comunità che potranno diventare una sola senza perdere l'identità perché l'identità insomma vive nelle azioni degli uomini e non nei confini amministrativi di un ente grazie a tutti